25 milioni per il rinnovo del parco veicoli delle imprese dell'autotrasporto. Il decreto porta alla firma del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini un incentivo all'acquisto di mezzi ecologici e per rendere le aziende più competitive. La ripartizione prevede 2 milioni e mezzo per l'acquisto di otto mezzi ecologici nuovi addibiti al trasporto merci di 3 tonnellate e mezzo, 15 milioni per rottamazione e acquisto di nuovi veicoli, 7 milioni e mezzo per l'acquisizione di rimorchi. Beneficiare della misura di incentivazione alle imprese in regola con il registro elettronico nazionale e l'albo degli autotrasportatori.